un golino a fuori va bene dai raga è diventato è proprio così un pezzo del merito cioè almeno avviso un'amica di cosa oh oh raga 50 maglie tutti sono abbastanza più almeno si il Covaselli buono quindi abbiamo numero ragazzi un grandissimo gol di pallumieri applausi tunnel e tiro sul primo palo gran sinistro 1 a 0 racing ... ... ... ... ... ... piu' aspetta lì vieni l'arco ehi prima vieni 13 spara sparo ehi Grazie Secondo Tommy un minuto eh Andiamo 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 Oh Vai veloce entra 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 Bravissimo Eh scena 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 Tommy Vai destra Vabbè decimo Eh Eh Dai ragazzi Cominci a trovare te E' qui Inizia zitto Vieni Ce l'hai uno Gole Eh cazzo Bravo Rangolla è il numero 9 Carto Oh Omo omo che arriva Dai dai l'ho chiamato Buona 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 No 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 Ci si vede Valè Connaccia Buona 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 Buon Buon